Com'è la forma della Terra? E come funziona il tutto? Perché la NASA falsifica tutto quanto? E com'è iniziato tutto questo? Le due principali teorie della relatività e quantistica sono solo teorie e non sono collegate una con l'altra. A dispetto dell'incapacità di trovare qualcosa che possa coesistere con tutte e due, in media tradizionali non cercano nient'altro. Fanno questa assurda affermazione dove niente è esploso in qualcosa e che voi e io viviamo su una palla rotante dove infatti noi non siamo nulla. Primo, è un grande mistero, è un enorme mistero su tutte le gambe. Ma sappiamo che può avere delle strane proprietà. Ora, se sommiamo la gravità, questo mix, la gravità permette di avere delle energie negative come delle energie positive. Ecco che lo spazio vuoto dove non ci sono particelle può progiungere particelle spontaneamente perché non si viola la conservazione dell'energia. Successivamente all'inizio c'è un'energia totale zero e più tardi abbiamo un'energia totale zero, ma all'inizio c'è il vuoto, ma in seguito abbiamo un universo colmo di cose. Ok, per quelli che a casa dopo aver sentito questo scuotano le teste e si chiedono, che sta dicendo questo tizio dove afferma che qualcosa può formarsi dal nulla? Stai dicendo che c'è energia in quel nulla, in quello spazio? Non sappiamo bene infatti, ciò è veramente nocevole. Una volta che si mette la gravità dentro questo mix possiamo avere l'energia positiva e l'energia negativa. Possiamo partire con l'energia zero e poi creare particelle di energia positiva che hanno energia positiva, ma la trazione gravitazionale come energia negativa dà una somma totale che può essere zero. Suona come l'ultima possibilità di mangiare gratis. Non c'è nessun pasto gratis, scrive Lawrence, nemmeno un sandwich di burro e arachidi e marmellata. Quindi da dove arriva questa gravità? C'è bisogno di qualche massa per creare la gravità, giusto? Lawrence, tu chiedi molto più di un pasto gratis. Tu stai chiedendoci di credere che uno più uno fa venti per metterci dentro al sacco delle fiabe dove si cavalcano gli unicorni e poi i draghetti fatati. Quindi Lawrence sta inseguendo i suoi unicorni e scommetto i suoi draghetti fatati, ma perché non ci dicono semplicemente la verità? Il signor Kaku ci ha dato un indizio dove in una sua citazione ha detto, un giorno Dio è sceso dall'alto e disse, guarda, queste due grandi teorie, le teorie della gravità e della quantistica sono sbagliate, cosa dovrei dire? Prima dovrei dire, oh mio Dio, tutte le mie pubblicazioni sono sbagliate, voglio dire, devo guardarmi in giro per trovare un altro lavoro. Così noi rimaniamo continuando a credere in questo e tenendoci il lavoro, ma sappiamo che è guasto. Chi crede nel globo non comprende che non si può pubblicare la verità, ok? Perché le persone non possono semplicemente buttarvi ai loro anni di studio, ai mezzi di sussistenza e così restano con i loro pari. Non può succedere, non mi credete? Basta solo guardare ai massecci numeri di commenti scellerati e incivili che i globalisti lasciano sui nostri canali. Dovreste iniziare a comprendere che cosa farebbero questi vili globalisti ad un professore universitario che vuole solo portare a galla la verità. Questi tizi odiano le persone come coloro che amano la morale e faranno di tutto pur di far chiudere il canale di chi fa ricerche libere, a meno che il governo non arrivi per primo. È l'idea della cosmologia, la versione dei mainstream di questo. semplicemente guardateci dentro, esaminatela. Vedete, la loro cosmologia ha questa necessità per farci credere di aggiungere entità che non si vedono come la materia oscura, l'energia oscura e adesso le particelle virtuali per mantenere in vita il loro modello. Qualsiasi persona sensibile e logica saprebbe già che facendo questo distruggono la loro teoria ben oltre al poterla riparare. Sapete, la semplice risposta è stata scritta per noi molto tempo fa. Dio ha creato il cielo sulla terra. E non è per niente complicato. È citato. Nella scienza, se siamo fuori con un fattore da 2 a 10, definiamo questo orrendo. Dovremmo dire che questo è sbagliato con la teoria. Siamo fuori con un fattore 10. Comunque nella cosmologia siamo fuori con un fattore da 10 a 120. Questo significa un 1 con centinaia di zeri che lo seguono. Questa è la più grande e mancata corrispondenza fra la teoria e gli esperimenti nella storia della scienza. In altre parole, l'osservazione reale e l'esperienza non corrispondono con la teoria. Adesso le entità governative, quali la NASA, addirittura falsificano la teoria per il lavaggio del cervello religioso degli spettatori. La teoria non assomiglia ad alcuna delle nostre realtà. E loro continuano a perpetrare questa teoria con immagini grafiche computerizzate, con la realtà virtuale, con la realtà aumentata e con i lavori fantasiosi fatti con Photoshop. È ciò che ci viene presentato come teoria, dipinta per noi, nei giorni moderni, attraverso l'uso della tecnologia, dei media. E tutto questo arriverà alla fine, penso, perché facciamo osservazioni, siamo onesti rispetto a quello che vediamo e non ce ne andiamo. Ed una cosa che sappiamo di certo e di cui siamo d'accordo è che la Terra è piatta.